Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, vedremo le notizie di cronaca più aggiornate, c'è stato un incidente questa mattina in città ma parleremo anche della notizia che ha acceso di entusiasmo soprattutto i fan di Bruce Springsteen che farà tappa a Ferrara il prossimo 18 maggio ma poi questa mattina si è tenuta un'iniziativa di solidarietà ma anche di sport in centro a Ferrara, vedremo le immagini e poi parleremo però anche di cosa aspettarci dopo l'estate dal punto di vista della lotta al Covid, ci sono dei piani e quali possono essere gli scenari dei prossimi mesi, lo abbiamo chiesto alla direttrice generale dell'azienda USL di Ferrara, parleremo anche di iniziative perché ci apprestiamo a vivere un fine settimana molto ricco di eventi ma apriamo purtroppo come detto con l'incidente avvenuto questa mattina a Ferrara nella rotonda zona ipercop tra via Bologna, via Wagner e via Beethoven, una giovane in sella, la sua bici è stata investita da un'auto, la 24enne è stata sbalzata giù dalla due ruote, ha riportato traumi e per questo è stata trasportata all'ospedale di Icona, lunghe code si sono formate per consentire l'intervento dei soccorsi delle autorità della polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente, poi ricordiamo anche che in via Bologna sono in corso lavori di asfaltatura quindi lunghe le code questa mattina in questa zona, in quella zona della città. E cambiamo argomento adesso, dopo indiscrezioni smentite attese e quando ormai non se ne parlava più in città, alla fine ieri è stata ufficializzata la tappa del concerto di Bruce Springsteen a Ferrara il prossimo di 18 maggio 2023, si terrà al parco urbano, i biglietti dovrebbero partire, le vendite per domani e si attende un sold out in pochi minuti, si stanno anche registrando diverse già frenotazioni per gli hotel di Ferrara, quindi è iniziato già al conto alla rovescia per questo evento molto atteso ma sentiamo come si è arrivati a questo risultato. Il 18 maggio del prossimo anno il parco urbano Giorgio Bassani ospiterà un evento che potrebbe segnare la storia recente delle manifestazioni a Ferrara. Bruce Springsteen si esibirà nella città estense l'annuncio martedì mattina presto attraverso il profilo ufficiale di Bruce Springsteen che suonerà con la A Street Band, il sindaco di Ferrara Alan Fabri ha ripreso l'annuncio e la notizia è subito emersa fino alla ribalta nazionale. Tour che toccherà anche altre due città italiane, oltre a Ferrara il 18 maggio, prima tappa nel bel paese da cui manca da sei anni, il boss sarà a Roma il 21 maggio e a Monza il 25 luglio 2023 dove chiuderà il tour europeo che toccherà anche Barcellona, Dublino, Parigi e Amsterdam e tra le altre anche Zurigo, Oslo, Copenaghen, Vienna e Monaco. Ferrara è pronta ad accogliere Bruce Springsteen, ha detto il sindaco Fabri che lo ha definito l'evento degli eventi in uno scenario pressoché inedito com'è il parco urbano. Cambiamo argomento, la seconda edizione della Run for Hope ha toccato questa mattina Ferrara articolata su staffette regionali sincrone. La Corsa della Speranza quest'anno ha come ente beneficiario AIL alle ore 10 circa in piazza municipale a Ferrara la partenza della staffetta dell'esercito italiano rappresentata da una squadra di 20 militari che hanno affrontato circa 30 chilometri per raggiungere Molinella nel Bolognese dove è avvenuto il passaggio del testimone della staffetta. Alla partenza erano presenti le autorità cittadine e militari e anche delle forze dell'ordine. Parliamo adesso dell'elezione dell'arcivescovo di Bologna a Zuppi a nuovo presidente della CEI. Papa Francesco ha nominato l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi nuovo presidente della conferenza episcopale italiana. I vescovi italiani riuniti a Roma nella 76esima Assemblea Generale avevano proceduto all'elezione di una terna di candidati poi sottoposta alla decisione del Papa secondo quanto stabilito dallo statuto della CEI. Dunque il cardinale romano classe 55 a Bologna da sette anni dovrà coordinare i lavori dei vescovi della Chiesa italiana, un nuovo impegnativo compito che non lo distoglierà dal suo intenso lavoro per la Cidiocesi di Bologna che anzi avrà una valenza sempre maggiore. La nomina ha immediatamente avuto un risalto internazionale e tutte le più alte cariche dello Stato si sono congratulate con Zuppi che ha atteso domani a Bologna per la tradizionale benedizione alla città dal sagrato di San Petronio in occasione della discesa della Madonna di San Luca. Nel caso in cui gli impegni romani non glielo permetteranno sarà in città sicuramente domenica per riaccompagnare l'immagine della Beata Vergine sul colle della Guardia. Siamo lieti di questa scelta affermano i vicari generali dell'Arcidiocesi, Monsignor Stefano Ottani e Monsignor Giovanni Silvani che riconosce il valore della persona e l'esemplarità del suo ministero, in particolare la sintonia con il Magistero Pontificio. Ringraziamo Papa Francesco per il dono a tutta la Chiesa italiana, ci rallegriamo con il nostro arcivescovo per il riconoscimento, gli promettiamo pieno sostegno nella preghiera e nella collaborazione. Ci sentiamo anche noi coinvolti per facilitare il suo compito e per far coincidere le indicazioni nazionali con quelle diocesane. Già in passato un altro arcivescovo di Bologna era divenuto presidente della CEI, dal 1969 al 1979 infatti il cardinale Antonio Poma, allora arcivescovo di Bologna, aveva guidato per due mandati la conferenza episcopale italiana. Tanti quindi messaggi di stima e di congratulazioni arrivati all'indirizzo del neopresidente della CEI, anche Monsignor Giancarlo Perego e l'intera arcidiocesi di Ferrara e Comacchio esprimono le loro felicitazioni. A Cardinal Zuppi l'arcivescovo di Ferrara e Comacchio ringrazia Papa Francesco per la scelta dell'arcivescovo di Bologna a cui rinnova la propria stima e assicura la costante preghiera per un così importante e delicato incarico, ha aggiunto Monsignor Perego. Cambiamo totalmente argomento adesso, terminata l'esperienza del lab vaccinale di Ferrara Fiere, quali potrebbero essere gli scenari futuri per i prossimi mesi? L'abbiamo chiesto alla dottoressa Monica Calamai, direttrice generale dell'azienda USL di Ferrara. La scorsa settimana è stato chiuso l'ab vaccinale di Ferrara Fiere. Le vaccinazioni proseguono la Casa della Salute Cittadella San Rocco, ma intanto abbiamo chiesto alla direttrice generale dell'azienda USL di Ferrara, Monica Calamai, quelli che potrebbero essere gli scenari futuri dei prossimi mesi. Abbiamo previsto diversi scenari, precisamente quattro, quello di bassa intensità, di media, di alta e di altissima intensità, che moduleranno il numero di vaccini e delle persone da vaccinale giornalmente sulla base degli input e del target che dovremo andare a vaccinare, ma anche della tempistica. Devono funzionare ovviamente a fisarmonia, quindi andiamo da un regime minimo, che è previsto per la bassa intensità, che è di 1310 vaccinazioni al giorno, fino a un target massimo che arriva fino a 5.020 vaccinazioni al giorno. Quindi questo è lo scenario dove abbiamo previsto anche ovviamente tutta la turnistica e anche questa sarà modulata sulla base dei diversi numeri che dovremmo andare a derogare e anche il reclutamento del personale in tutte le sue forme. Sapete che c'è un personale delle varie postazioni sanitario, come è ovvio che sia, prevalentemente infermieristico e medico, ma abbiamo anche personale amministrativo che è stato fondamentale e sostanziale in quelli che sono stati i percorsi di preaccoglienza, ma anche di rilascio delle certificazioni. Quindi c'era del personale assolutamente dedicato che abbiamo previsto dove andare a reclutare. Fino a un certo target, diciamo che fino al terzo scenario, al secondo scenario abbiamo la possibilità di andarlo a reclutare già internamente nel momento in cui si prospetta gli scenari più stressanti e con numeri ovviamente maggiori, dovremmo andare a fare oltre a un reclutamento interno anche un reclutamento sostanzialmente esterno. Mi preme sottolineare che è chiaro che la Fiera ha avuto un ruolo fondamentale anche solo perché la popolazione qui presente è una popolazione maggiore, ma anche perché è stato riferimento anche per la provincia. Quindi magari vista la disponibilità molte persone potevano venire e sono venute a vaccinarsi qui. Tant'è ed è che ha svolto rispetto al complessivo delle vaccinazioni erogate e ha rappresentato come produzione, facendo la media fra prima, seconda, terza e quarta dose, il quasi 72% delle intere vaccinazioni che noi abbiamo erogato alla popolazione. Sono leggermente più alte se andiamo sulle singole dosi, ovviamente quindi questa è la media che viene abbassata dalla quarta dose per i motivi che vi dicevo prima. Ancora cronaca, andiamo a Codigoro dove l'altro pomeriggio un blitz dei carabinieri ha portato all'arresto di un uomo in fuga da 12 giorni che si trovava nascosto in una cascina di campagna ed in possesso di una pistola in fuga dal Bresciano. Un bergamasco di 33 anni era ricercato per quattro rapine aggravate commesse nel 2019 nelle province di Monza, Brianze e Como per procedere alla sua cattura ai militari delle stazioni dei carabinieri di Lido e Stensi Codigoro si è unito del personale del nucleo operativo della compagnia di Comacchio e del nucleo investigativo di Ferrara. L'uomo è stato fermato dopo essere uscito di casa ed essere salito nella sua auto che usava per raggiungere il centro di Codigoro. Ora sconterà la propria pena di oltre due anni nel carcere Stensi. Non è da escludere che per mantenersi fosse dedito al piccolo spaccio di droga. Torniamo adesso però a parlare di foraggio e di erba medica. L'altro ieri a Ripapersico di Porto Maggiore è stato inaugurato l'impianto per la disidratazione dell'erba medica a foraggio del Celenza sul quale la regione sta investendo. Un progetto per una filiera europea legata all'erba medica. L'erba medica è un prodotto fondamentale perché fa benissimo naturalmente alla zootecnia, è indispensabile la zootecnia ma è un prodotto eccezionale anche per l'ambiente, per la capacità di trattenere il carbonio e anche di consentirci di avere dei terreni più fertili grazie al sistema della rotazione. Quindi è una filiera sulla quale come regione punteremo anche, abbiamo ottenuto che nella nuova PAC ci sia anche un ecoschema dedicato all'erba medica, quindi risorse straordinarie aggiuntive per coloro che producono erba medica, proprio perché abbiamo bisogno di aumentare la produzione nazionale e anche regionale di questa coltura. Questa struttura è importante innanzitutto perché è un investimento dopo una fase difficile pandemica e oggi di guerra, è un investimento nuovo e sicuramente è una notizia positiva. È importante perché è una struttura che dà opportunità di trasformare l'erba dell'azienda ma anche di tanti produttori della zona in foraggi disidratati che oggi è uno dei prodotti più richiesti a livello mondiale per l'alimentazione degli animali. Veniamo in un momento difficile anche del settore mangimistico per gli elevati costi, siamo ritornati a parlare in tutta Europa di una necessaria sovranità o autoproduzione europea per far fronte ovviamente alle sfide dell'agroalimentare del futuro, questo impianto è una buona notizia. L'appello era un po' agli agricoltori, nuovi anche no? Sì, ovviamente l'impianto si basa sugli eteri dell'azienda ma anche su contratti di filiera di cui i consorzi si faranno anche partecipi con le imprese del territorio per dare opportunità in più agli imprenditori agricoli e dall'alto produrre un prodotto di eccellenza che possa andare nella razione alimentare degli animali. Rimaniamo in provincia dove sono stati sequestrate 300 capi contraffatti destinati al mercato illegale di vendita a Lido Nazioni e l'operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza, le fiamme gialle della tenenza di Comacchio hanno intercettato un'auto condotta da un cittadino estracomunitario di circa mezza età, su di lui pende un ordine del questore di Ferrara risalente al 2018 relativo al decreto di espulsione emesso dal prefetto del capoluogo estense e poi appunto i finanzieri hanno trovato quella sta merce contraffatta che vedete in queste immagini e l'hanno sequestrata. E torniamo a parlare in qualche modo di agricoltura perché ha preso il via lunedì sera Farmers Got Talent, il nuovo format organizzato dai giovani col diretti di Ferrara per guardare al futuro, primo appuntamento all'Agrilocanda Val Campotto di Argenta, il prossimo appuntamento sarà questa sera all'agriturismo la Florida di Bondeno, i giovani agricoltori si sono incontrati e hanno conosciuto anche chi lavora in col diretti, qui è stata sottolineata l'importanza di fare squadra, ma perché i giovani partecipano a questi incontri e alle attività dei giovani di col diretti ce lo raccontano direttamente loro? Sono tre anni che mi sono insediata in agricoltura e quindi tre anni che partecipo al gruppo giovani col diretti. Nulla, secondo me è molto importante, noi stiamo cercando di fare gruppo, di coinvolgere i più giovani possibili perché comunque per noi è importante portare avanti magari la tradizione dei nostri nonni, comunque l'Italia è un paese che ha delle specialità culinarie, quindi noi ci teniamo a portare avanti la tradizione, quindi per me è importante che i giovani partecipano e soprattutto anche le donne. L'importanza di partecipare a queste riunioni qua è comunque un fattore di aggregazione per conoscerci uno con l'altro, scambiarci varie idee sulle nostre aziende, sulle nuove innovazioni in agricoltura e appunto magari presentarci e far vedere e raccontare di quello che facciamo noi a casa, le nostre aziende è così. Diversi ragazzi giovani li vedo comunque che si stanno inserendo nel mondo dell'agricoltura e ho diversi amici che hanno anche loro le loro aziende dove comunque anche loro producono frutta, pere e ci schermiamo diversi consigli e anche loro comunque sono ben inseriti nella loro azienda e ci mettono tanta passione. Vedere che tanti ragazzi si approcciano a quello che è il nostro mondo e non soltanto per curiosità ma proprio per poter avere un'attività finale dà veramente tanta soddisfazione. Poi li conosco un po' tutti e sono anche veramente delle persone come si deve, già così giovani hanno una mentalità veramente spiccata. L'idea è appunto di scoprire talenti, quindi un giro che ci seguirà un po' tutta la provincia dove avremo l'occasione di conoscere nuovi imprenditori oppure ragazzi che lavorano in azienda o non lavorano in azienda ma che hanno magari il padre, il nonno o qualcuno che è appunto agricoltore. L'idea quindi è che ci sia uno stimolo a questi giovani per avvicinarsi all'associazione e quindi a Coldiretti che riteniamo essere in grado di offrire anche per dei giovani delle opportunità, opportunità sia professionali sia anche proprio di ragionamento, di confronto con altri giovani e anche meno giovani, dove mettere al centro comunque l'agricoltura. Il nostro modo di intendere la sostenibilità, il nostro modo di intendere le occasioni che ci possono essere per trovare la propria via e quindi anche da un certo punto di vista favorire un rinnovo di quelli che sono anche gli organi dirigenti, di quelli che sono le persone che poi dovranno anche guidare l'associazione negli anni a venire. Il venerdì prossimo 27 maggio si terrà al Teatro San Benedetto di Ferrara e il premio Estense Scuola Presidente della giuria sarà Andrea Pizzardi che ci ha anticipato alcuni dettagli. Venerdì prossimo torno all'appuntamento con il premio Estense Scuola, premio ovviamente voluto da Confindustria Emilia Area Centro Giovani Imprenditori e l'appuntamento è alla Sala Cinema San Benedetto. Quali le caratteristiche di quest'anno? Le caratteristiche sono di un premio dove vengono coinvolte le scuole, le scuole del territorio, di Ferrara, di Bologna e di Modena. Ci troviamo quindi ad avere i ragazzi che si contendono questo primo premio, naturalmente verranno premiati i primi, i secondi e i terzi. Quest'anno hanno partecipato ben 14 scuole di cui naturalmente solo 6 sono le finaliste. Questi finalisti si troveranno quindi a sfidarsi sul palco, oltre ad aver fatto un loro lavoro precedente che è già stato sottoposto alla giuria. Il libro su cui hanno fatto il lavoro è il libro di Francesca Nava, che appunto parla del coronavirus e dell'inizio di questa pandemia sul territorio di Bergamo e quindi aspettiamo la finale che sarà sicuramente scoppiattante. Parliamo del Tenda Summer School Junior, edizione 2022, ancora pochi giorni e si parte. Sogni e fantasia tornano ad animare la provincia di Ferrara dal 6 giugno al 22 luglio. In 13 i comuni ferraresi si terrà la seconda edizione del Tenda Summer School Junior, campus in cui bambini e ragazzi incontreranno spesso per la prima volta il mondo della recitazione, del teatro e della comicità. I laboratori si svolgeranno in luoghi molto rappresentativi del ferrarese, delizie estensi, bastioni medievali, cascine dal sapore antico e garzaie. La manifestazione rappresenta insieme al campus internazionale, in programma dal 31 luglio al 7 agosto a Villa Mensa, uno dei punti nevralgici della fidliera creativa ideata da Stefano Muroni, perché coniuga territorio, cultura e favorisce l'aggregazione. Quest'anno saranno quasi 400 i bambini e i ragazzi che parteciperanno ai campus disseminati sul territorio ferrarese, sottolinea Muroni, che mira ad estendere il Tenda Junior a tutta la provincia di Ferrara. Primo appuntamento nel comune di Tresignana con il campus già sold out, che si terrà dal 6 al 10 giugno a Palazzo Pio. E con questo è tutto, vi ricordo di seguire i nostri canali social e il sito telestense.it per tutti gli aggiornamenti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.